Allora, avete visto il titolo e vi siete presi male, lo so, ma non vi preoccupate, vi faccio già un piccolo spoiler, non chiuderò il canale. Anzi, mi voglio impegnare ancora di più per poter portare più contenuti, più cose, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi adesso vi spiego tutti i cambiamenti che ci saranno di qui in avanti. Perché faccio questo video adesso? Perché per me la fine di maggio e l'inizio di giugno, oggi è il primo giugno, sono un po' la fine di tutto sempre, no? È sempre la fine di tutto perché lavorando tanto nelle scuole, le scuole finiscono e quindi fai un po' le conclusioni. Per me con maggio si finisce come fosse la fine dell'anno, poi ci sono giugno, giugno, agosto. Giugno? Ho detto giugno? Che sono tre mesi che non esistono, nel senso dove c'è il summer tour, dove si fanno concerti, cose, quindi quelli lì sono a parte. Poi da settembre si ricomincia. Quindi adesso, dato che siamo arrivati alla fine dell'anno scolastico, diciamo, voglio dirvi questa cosa, che è una cosa veramente molto molto importante. Perché adesso, praticamente, da giugno non starò più qui, io sono in provincia di Varese in questo momento, ma mi ritrasferirò nella mia città, città, nel mio paese natale, che è in provincia di Cuneo. Per cor, cioè una serie di cose che, vabbè, non vi sto a raccontare. Quindi questo studio qua, praticamente, lo dovrò lasciare ed è una cosa che mi spiace veramente tantissimo perché io ce l'ho affezionato. Poi con la questione dei video mi sono affezionato ancora di più, però, vabbè. Tra l'altro, una cosa che voglio fare, dato che non l'ho mai fatto, è ringraziare Fabio, che è l'altro ragazzo. Qui, in realtà, non ci sono solo io. C'è anche un altro ragazzo, Fabio, e lui mi ha permesso di fare i video, quindi io ho avuto un sacco di tempo grazie a lui. E anche lui è batterista, quindi mi ha permesso di fare la recensione anche dei suoi prodotti. Tanti piatti, cose che avete visto, erano suoi. Quindi io lo ringrazio veramente tantissimo perché è stato il numero uno. Ma lui è il numero uno, in generale. Detto ciò, il mio problema qual è? È che io, quando ero in provincia di Cuneo, lì avevo uno studio, ma avete presente le salette, quelle con i cartoni delle uova, tutti attaccati al soffitto? Ecco, quindi vorrei farmi qualcosa di un po' più serio, dato che dovrò fare i video, ovviamente, lì dentro, vorrei farmi uno studio un pochettino più bello. Quindi, questa sarà una figata per me, sarà una figata per voi, perché ovviamente vi dirò tutto quello che succederà. Nel senso, lo costruirete insieme a me, vi chiederò consigli, vi chiederò cose. Voi potrete chiedermi perché ho fatto certa cosa, dato che molte volte mi chiedete come ho fatto a insonorizzarmi questa stanza qua, ma in realtà io a questa stanza qua non ho fatto niente, perché ha fatto tutto Fabio, l'altro ragazzo, quindi so e non so le cose. Invece lì me la farò praticamente io da zero, poi chiederò aiuto ovviamente a gente. Però vi saprò dire tutto quello che faccio per insonorizzarmi la stanza. Capire come fare a rendere magari più secco il suono, se la batteria suona male. Quindi dovrò fare un pochettino di prove, voi mi ariterete e tra l'altro scrivetemi qui sotto i dubbi che avete, così almeno io me li segno e magari in un video rispondo proprio alle vostre domande. Ma, ah, cambiamo inquadratura perché ogni tanto fa bene. Quello che vi starete chiedendo è, ok, vai giù, ma cosa fai giù? Allora, prima cosa farò video. La cosa principale sarà portare contenuti sul canale, fare cose. Ma una cosa molto molto importante sarà la questione di insegnamento, perché ovviamente non smetto di insegnare. Quindi se volete mi troverete all'istituto musicale Marenco di Ceva e ovviamente vi lascio tutto quello di cui avete bisogno, il sito, la mail, eccetera, eccetera, di quella scuola per chiedere informazioni. Ma in realtà se avete bisogno chiedete pure informazioni anche a me, che vi so dire qualcosa, ve lo so dire. Seconda cosa ovviamente darò lezioni nel mio studio. Quindi se volete potete scrivermi sempre in privato e dirmi guarda che io non ce la faccio a venire a scuola. Io voglio fare una lezione al mese, una lezione ogni tanto, quando mi va. E ovviamente lì ho possibilità di gestirmi gli orari come voglio e in quel caso diventa più facile. La terza cosa, che è una cosa che non ho mai fatto, ma voglio incominciare a fare perché me la state chiedendo veramente in tanti e quindi tutte le volte mi spiace dirvi che purtroppo non è possibile, sono le lezioni via Skype. Sto capendo come fare e sicuramente per, non lo so, agosto o settembre sarò prontissimo per fare le lezioni Skype. Quindi scrivetemi in privato anche quello. Scrivetemi per mail o su Instagram, queste due cose o anche su Facebook. Mi dite, Luca sono interessato alle lezioni Skype, così io me lo segno e poi vi ricontatterò e vi dirò, guardate che da adesso sono pronto, da domani se volete possiamo fare lezioni Skype. Quindi questo è quanto, ovviamente non vedrete già dal prossimo video la saletta nuova perché in questi tre o quattro giorni non riesco a farmi uno studio nuovo. Qui dentro ci starò ancora un bel po', almeno per un mesetto mi vedrete sicuramente ancora qui dentro. Ovviamente dovrò capire in base al tempo che ci metterò per farmi il nuovo studio e tutto se riuscirò a tenere sempre i due video a settimana soliti. Può darsi che passi a un video a settimana, però raga non lo so. Seguitemi, vi faccio sapere. Io se riesco comunque cerco di portarvi sempre due contenuti a settimana. Per il momento comunque ci vediamo sempre qui, in questo posto, il martedì e il sabato alle 11 e mezzo. Ciao! 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 Grazie.